Ciao, sono Sara Pogliese, socialist ed esperta di cucito e in questo nuovo corso dedicato a Crea più Modifica Cartamodello Camicia Volume 1 ti condurrò assieme a me passo passo alla fantastica scoperta del mondo della modellistica sartoriale per imparare a cucire online meglio ovunque. All'interno del corso imparerai a realizzare il cartamodello della camicia base aderente con pants imparerai anche a realizzare il cartamodello della camicia base liscia senza pants. Scopriremo come si interviene nella realizzazione del cartamodello della camicia davanti creando pants, liste a bottonature, modifiche sui girocolli e lavorazioni sul fianco delle tue creazioni su misura. Imparerai a lavorare correttamente tutti i cartamodelli e scoprirai anche come andare a creare degli orli arrotondati sagomati per la tua camicia. Scoprirai altresì come andare a ridurre o ampliare le pants per dare più o meno volume al tuo stampo di camicia ma non è finita qui perché andremo a vedere assieme anche come creare la camicia liscia senza pants con la creazione delle liste a bottonature e anche in questo caso scopriremo che cosa vuol dire andare a sagomare correttamente il fianco della tua camicia. Non ti è ancora sufficiente tutto ciò? Scopriremo assieme anche la fantastica lavorazione del carré spalla. Lavoreremo infatti il carré spalla dietro con le modifiche lavorate sia per carré dritti sia per lavorazioni di carré molto più creative come i carré a punta. Comprenderemo bene quello che vuole dire lavorare un carré sagomato in altezza o un carré sagomato che scende e ci concentreremo poi sulla curiosa dettagliata lavorazione del carré spalla davanti sia nella versione carré spalla liscio diritto ma anche nella lavorazione del carré spalla sagomato e poi ci concentreremo anche sulla modifica del carré spostando la spalla in avanti lavorazione tipica delle camicie nelle quali vedi la confezione con la cucitura un pochino spostata in avanti. Questo corso crea più modifica carta modello camicia è perfetto per te se vuoi costruire il tuo cartamodello della camicia da zero e imparare dunque ad approfondire quella che sia la modellistica sartoriale dei capi realizzati con i tuoi cartamodelli personali. Questo corso però è perfetto per te se non sai come modificare i cartamodelli esistenti. Pensa ai cartamodelli Burda, Batteric, Simplicity, McCall's, Vogue, La Mia Boutique, Modellina, insomma tutti quei brand che producono cartamodelli già fatti ma dei quali non riesci ad interpretare la vestibilità. Infatti all'interno di questo corso imparerai anche a comprendere la vestibilità di un cartamodello, la corretta presa a misure, come andare a creare un cartamodello di una camicia aderente piuttosto che di una camicia morbida e imparerai a sbifettare tutti i cartamodelli che sono già disponibili in commercio per comprendere così sempre la perfetta vestibilità di ogni pattern sia che lo crei tu da zero sia che invece lo scegli da un pattern esistente. Questo corso infine è perfetto per te se vuoi confezionare delle camicia per altre persone per imparare tutti i trucchi del mestiere di questo fantastico mondo della modellistica sartoriale. Crea più modifica cartamodello camicia volume 1 è l'inizio di una serie di corsi dedicati alla modellistica sartoriale del mondo della camicia che ti permettono di essere visualizzati per sempre 7 giorni su 7 24 ore su 24 comodamente a casa tua in totale sicurezza. Potrai infatti vedere questo corso da cellulare, tablet, computer e persino tv. Il suo acquisto infatti ti garantisce la sua visione per sempre senza limiti di tempo e poi c'è una community ricchissima e sempre attiva che ti aspetta all'interno di ogni corso per condividere con te domande, dubbi, curiosità o condivisioni sul corso che stai frequentando. Cosa aspetti? Inizia ora la tua avventura di apprendimento in Sara Pogliese Academy. Introduzione e programma. Ti do ufficialmente il benvenuto in questa nuova classe di modellistica sartoriale. Scopriremo assieme tanti passaggi utili per andare a creare, manipolare, modificare un cartamodello di camicia. Questo corso diviene perfetto per te se stai cercando un corso per iniziare a disegnare da zero il cartamodello della camicia. Questo corso è perfetto per te se hai già un cartamodello di camicia di qualunque brand e vuoi capire come modificarlo. È infatti un corso perfetto se hai in mano un cartamodello Burda, La Mia Boutique, McCall's, Batteric, Vogue, Simplicity o di altri designer indipendenti e vuoi capire dove modificare il cartamodello esistente per portarlo alla tua misura. È molto importante infatti quando si lavora il cucito sartoriale comprendere quali siano i passaggi precisi, propedeutici, alla comprensione della modifica di un cartamodello. Sarà pertanto perfetto per te se vuoi partire da zero nella costruzione di uno stampo, ma questo corso sarà perfetto per te se ne hai già uno a disposizione e vuoi imparare a modificarlo al meglio. Scopriamo assieme il programma di questo corso. Andremo a vedere assieme l'introduzione al programma, il video che stai visualizzando in questo momento. Scopriremo poi un capitolo dedicato al corpino base. Vedremo una panoramica di quelli che sono i corsi in Sarapoiese Academy dedicati allo sviluppo del corpino della camicia. Vedremo assieme la terminologia del modello, capiremo quale vestibilità si apporta ad un cartamodello di camicia. Scopriremo poi come si prendono le misure e qual è il punto di partenza del cartamodello per andare a creare infiniti sviluppi poi di camicia. Ci sarà una seconda sezione dedicata alla camicia aderente. Realizzeremo insieme il cartamodello davanti e il cartamodello dietro della camicia. La camicia aderente è dotata di pants. La camicia aderente è la base per tutte le camicie sagomate. La camicia senza pants è un'altra unità di apprendimento che vedremo all'interno di questo corso. La camicia si chiama anche camicia liscia in questo caso. È infatti una camicia dal taglio morbido lineare senza pants cucite oppure sagomate ed è ideale su quelle camicie per esempio dal taglio Chanel, dritte, semplici. Vedremo come costruire il corpino davanti e come costruire il corpino dietro. All'interno di questa classe di modellistica dedicherò un'intera sezione allo studio del carré detto anche sprone. Scoprirai assieme a me quella che è la terminologia del modello, quali sono i carré davanti, quali sono i carré dietro. Scopriremo poi nello sviluppo del carré dietro quali possono essere i carré lisci o quelli sagomati, per esempio quelli delle camicie jeans. Scopriremo assieme come modificare un carré dietro portandolo in avanti per creare quel classico esempio delle camicie che hanno il segnetto qui portato in avanti, identificativo della spalla che avanza nel tuo cartamodello. Vedremo poi le conclusioni, i sampler, le review. Ti ricordo che questo corso potrai rivederlo in qualunque momento, sette giorni su sette, ventiquattro ore su ventiquattro, comodamente a casa tua in totale sicurezza, da cellulare, tablet, computer e persino tv. Abbiamo visto insieme l'introduzione e il programma.